sono passate una cosa come 25 ore dalla fine della lettura di Una vita come tante di Ania Yanigara e ora credo di essere pronto a parlarne basta di fatto che ieri sera poi quando ho finito il libro non sono riuscito veramente a fare nient'altro non sono riuscito a leggere altro ho quarto cenarentola 1 2 3 e quando ho finito il terzo ero più depresso di quando ho iniziato il primo ero talmente tanto un insieme di emozioni diverse tutte abbastanza contrastanti da loro ero depresso triste infelice svuotato talmente tante cose insieme che davvero non sono riuscito a fare praticamente niente e non so nemmeno da dove partire per parlare di questo libro dovrebbe essere la conclusione del blog non so quanto riuscirò a parlare di questo libro senza fare spoiler se a un certo punto comincerò a fare degli spoiler vi avvertirò in modo da chiudere il video perché ecco vorrei parlarne con qualcuno non ho nessuno con cui parlarne quindi l'unico modo che ho per sfogare quello che provo verso questo libro è fare questo video quindi magari se andrò in qualche possibile spoiler vi avvertirò una vita come tante è un libro che sicuramente non lascia indifferenti non è un libro che leggete e rimettete liberia e dite ok ho letto bene passiamo ad altro no è un libro che comunque sia negativamente che positivamente comunque ti lascia qualcosa cioè ti lascia dentro delle opinioni anche contrastanti sia appunto negative che positive non lascia indifferenti nella maniera più assoluta è un libro che ti smuove qualcosa dentro o lo ami o lo odi io per questo libro provo tutti e due questi sentimenti l'ho amato tantissimo credo che una vita come tante sia diventato uno dei miei libri preferiti in assoluto questo perché è riuscito a darmi cose che tanti libri non sono riusciti a darmi mi sono sentito legato a questa storia in una maniera sconvolgente tuttora io continuo a pensare a quello che ho letto a quello che è successo a tutti i personaggi all'interno delle storie e rifletto su quello che ho letto e ci sono tante cose che però odio perché non mi sono piaciute tante cose che appunto condivido con le persone che sono dalla parte odiato questo libro perché esiste comprendo perfettamente le critiche di sono state mosse che gli vengono mosse perché in qualche modo le condivido ma allo stesso tempo per me il sentimento di amore verso una vita come tante prevale nella maniera più assoluta partiamo dal fatto che una vita come tante è la storia di quattro ragazzi ovvero Jude, Malcolm, William e JB quattro ragazzi con i loro progetti per il futuro le loro paure, i loro drammi vivono a New York e vediamo appunto in questo libro enorme tutta la loro vita in questo libro è richiusa l'esistenza intera di questi quattro ragazzi e di tanti altri personaggi e di loro conosciamo veramente tutto all'inizio del libro veniamo immediatamente catapultati all'interno della loro vita tra l'altro non c'è un vero e proprio riferimento temporale non sappiamo quando gli avvenimenti che ci vengono raccontati prendono piede l'autrice decide di tralasciare qualsiasi riferimento culturale all'interno della storia quindi anche la società, la politica, le varie tecnologie vengono menzionati, i fatti di questo libro potrebbero essere accaduti in qualsiasi anno comunque più o meno vicino ai nostri ovviamente perché qualcosa ce lo lascia presagire ovviamente come la presenza dei taxi per esempio e come dicevo all'inizio del libro veniamo immediatamente a conoscere questi personaggi quello che è il loro passato, le loro aspirazioni per il futuro ci concentriamo in modo particolare negli anni del college quindi li conosciamo come ragazzi che hanno vent'anni e vediamo quali sono le loro passioni cosa li spinge a continuare quello che sognano di diventare in futuro credo che una delle cose più interessanti appunto di questo romanzo sia la caratterizzazione dei personaggi che all'inizio è davvero fortissima perché l'autrice ci permette di conoscerli piano piano sempre meglio di farci un'idea completa su di loro e una cosa che ho apprezzato tanto di questo libro è che i personaggi sono tremendamente realistici come tante altre cose invece non lo sono per niente sono realistici perché questi personaggi comunque hanno una loro tridimensionalità ci viene mostrata a 360 gradi quella che è la loro caratterizzazione e vediamo tanti lati di questi personaggi molti lati che alla fine potremo anche non apprezzare nel caso di JB, uno dei nostri protagonisti JB è un ragazzo che ama l'arte quindi quello che vorrebbe diventare da grande appunto è un artista ama dipingere, ama trasmettere le proprie emozioni attraverso la tela e è un personaggio che io personalmente ho detestato perché JB è semplicemente una persona orribile come dicevo all'interno del vlog JB è quel tipo di persona che sceglie gli amici in base a quanto pensa che queste persone avranno successo nel loro futuro lui in prima persona crede che queste persone avranno meno successo di lui oppure raggiungeranno i loro obiettivi dopo di lui allora sono degni di essere amici di JB altrimenti non è chi va proprio genio infatti vediamo che ci saranno parecchie nemicizie all'interno del libro perché comunque di amicizie si parla si parla di amicizie, si parla di amore, si parla di morte ci sono tanti temi che poi dopo andremo a vedere riferendomi proprio a JB vediamo appunto questi personaggi di cui vediamo tanti lati non c'è la paura di mostrarceli come persone terrificanti come persone veramente detestabili, orribili quasi al limite della cattiveria questa cosa l'ho apprezzata davvero tanto credo che all'inizio il lavoro sui personaggi sia davvero grandissimo, enorme poi andando avanti la cosa si perde il libro comincia ad essere sempre più stagnante e così i loro personaggi che rispetto alle prime pagine, rispetto ai primi capitoli si vanno un po' perdendo anche se comunque conosciamo sempre di più la loro visuale nel completo l'autrice va a toccare tante tematiche all'interno di questo libro e anche per questo uno dei motivi che vi dicevo non vi lascia indifferenti le tematiche che affronta l'autrice sono anche uno dei motivi per cui tante persone hanno odiato questo libro si parla di traumi in modo particolare perché la vita di questi personaggi e in modo particolare di Jude che è il nostro personaggio principale è piena di traumi Jude appunto è la nostra colonna portante tutto è in funzione di Jude anche la storia degli altri protagonisti è sempre in funzione di Jude ci viene raccontata la loro storia in funzione di quella di Jude Jude è la catena che fa andare avanti tutta la storia il libro affronta tante tematiche molto difficili e per chi è sensibile a determinate tematiche ecco non è sicuramente una lettura che consiglierei perché è tutto molto vivido è tutto molto esplicito è tutto molto chiaro il libro è molto grafico è molto visivo sotto questo punto di vista si parla di traumi si parla di abuso sessuale si parla di pedofilia si parla di autoresionismo si parla di suicidio si parla di prostituzione prostituzione minorile di rapimento ci sono tematiche davvero forti davvero sensibili davvero molto molto delicate parla poi di disabilità di sanità mentale insomma in questo libro ci sono tutte quelle tematiche che una persona può ritenere delicate complicate da gestire ci sono tutte quelle che vi vengono in mente in questo libro ci sono l'autrice decide di affrontare tutto quindi capirete che la mole di cose che succedono che vediamo in questo libro sono davvero tante e ti vengono addosso come un'onda potentissima che è difficile da gestire ti portano davvero quasi alla sesperazione tutto è portato alla sesperazione infatti una delle cose che questo libro un attimo mi ha come dire non ho apprezzato così tanto ma alla fine ho deciso di mettere da parte è il fatto che è poco credibile nella vita di questi personaggi succede di tutto in modo particolare nella vita di Jude che è una calamità per la sfortuna praticamente è logico che tutte le cose che succedono a Jude in particolare in questo libro nella vita reale non potrebbero succedere e questo appunto porta a una sorta di realismo nella storia di una poca credibilità con cui io stesso ho fatto fatica a venire a patti questa poca credibilità questo irrealismo che piano piano si fa sempre più lampante andando avanti nella storia hanno reso anche a me difficile la lettura e in qualche modo me l'hanno fatta apprezzare di meno però sta di fatto che questa non è una biografia una storia sono cose che nella vita reale non potrebbero succedere e l'autrice ho letto un po' di interviste ha ripetito più volte che ovviamente tutto questo non è reale non è qualcosa che potrebbe succedere perché se avete letto potete capire il mio discorso ma a Jude ne succedono veramente tante e ecco immaginare una cosa del genere nella vita reale è impossibile però appunto l'autrice non si prefigge il raccontare una storia che potrebbe succedere vuole raccontare una storia portata all'estremo e secondo me ci riesce ci riesce riesce ad essere coinvolgente a me personalmente ha coinvolto tantissimo io ero smanioso di sapere che cosa sarebbe successo dopo ma soprattutto perché avevo davvero a cuore l'esistenza di queste persone l'esistenza delle persone che sono all'interno di questo libro mi sembra di conoscerle di conoscere ogni piccolo lato ogni piccola cattiveria ogni singolo lato buono di questi personaggi mi sembra di averli vissuti appieno sarà anche perché comunque abbiamo li abbiamo conosciuti per tutta la vita perché prende appunto l'arco temporale di tutta l'oro resistenza e quindi mi sono sentito così emotivamente connesso alla loro storia che il fatto di sentirla irreale poco credibile per me ha avuto poco conto ma so che è una critica valida con cui io mi riconosco profondamente perché andando avanti nella lettura ho sentito anche io questa poca credibilità soprattutto mettendo mattone dopo mattone alla storia di Jude perché è una storia che ci viene perché tutti i suoi trami ci vengono comunque raccontati andando avanti cioè non è qualcosa che sappiamo immediatamente e appunto vedendo prima una cosa poi un'altra cosa aggiungiamo quell'altra cosa dici ok però ecco raggiungi anche il grottesco l'ultima cosa prima di passare alla parte spoiler se cercate un libro che parla di omosessualità probabilmente questo non è il libro che fa per voi perché qui più che di parlare di omosessualità si parla di sessualità ed è ben diverso e il modo in cui parla di sessualità è interessante il modo in cui parla di omosessualità è meno interessante e forse poco riuscito sostanzialmente le cose che io non ho apprezzato di questo libro sono due la prima l'abbiamo già discusso ovvero il fatto che sia irrealistico sia poco credibile che tutto quello che succede in questo libro è davvero una sorta di favola che ci viene raccontata però secondo me va bene così aspettarsi della credibilità da questo libro ecco non giova un granché un'altra cosa che non ho apprezzato anzi che credo che sia una grande pecca in questo libro una grande mancanza è che i personaggi nonostante siano molto realistici nonostante li ho apprezzati davvero tanti siano caratterizzati davvero molto molto bene soprattutto nella prima parte perché poi appunto c'è il fatto che questi personaggi non crescono mai rimangono sempre molto simili a se stessi rimangono sempre attaccati a quello che erano all'inizio il giude che noi vediamo a 50 anni si comporta ragione pensa e fa delle cose che avrebbe fatto il giude di vent'anni e così tutti i personaggi non vediamo mai una vera e propria crescita un vero e proprio sviluppo del loro personaggio è una cosa che mi è dispiaciuta molto avrei voluto vedere un atteggiamento diverso andando avanti con l'età un comportamento diverso un ragionamento diverso che secondo me invece non c'è stato e credo che sia una grandissima pecca del libro una vera grandissima pecca il libro poi forse è troppo lungo ci sono tante cose che vengono ripetute fino a quasi lo sfinimento interi ragionamenti interi processi intere cose che noi abbiamo già visto ci vengono ridette più spesso durante la storia alcune parole vengono riutilizzate molto spesso e il libro poteva essere decisamente accorciato ho letto che molti non apprezzano l'autrice come scrittrice dicendo appunto che non è una brava scrittrice mi trovo un po' in disaccordo su questa cosa ma soprattutto lo trovo un po' ingiusto forse non è uno degli stili più brillanti che abbia mai letto però non credo che sia una pessima autrice anzi nonostante il libro sia enorme io praticamente l'ho dirvorato è riuscita a coinvolgermi in una maniera incredibile alla fine di tutto non mi sentirete dire vi consiglio o non vi consiglio questo libro una cosa è certa secondo me è un libro interessante da leggere non lasciando indifferenti credo che anche se alla fine non ti piacerà ecco vale la pena di essere letto nel bene o nel male è una storia che alla fine ti lascia distrutto quindi come fai a consigliare un libro che sostanzialmente distrugge il suo lettore devo essere sincero è vero a me personalmente ha sconvolto ha distrutto ero sfiancato la lettura alla fine di tutto ma ha lasciato qualcosa di positivo dentro che non riesco a definire cosa sia però qualcosa di positivo c'è sento che mi ha lasciato dentro qualcosa di felice per quanto questa storia felice non è per niente per quanto le cose che ci vengono raccontate non sono felici non sono belle non sono positive tutto tremendamente sbagliato è tutto tremendamente negativo brutto tremendo però alla fine dentro di me qualcosa di profondamente bello l'ha lasciato quindi queste mille passapagine per me sono valse davvero tanto davvero davvero molto e adesso passiamo alla parte spoiler e voglio concentrarmi in modo particolare su quello che è il personaggio di Jude che è un personaggio che a me ha colpito davvero tanto sia appunto negativamente che positivamente sono stato molto legato a Jude soprattutto nella prima parte del libro in cui ci viene dipinto come il buono della situazione come la vittima da proteggere la vittima da comprendere la vittima da capire e questo appunto lo vediamo nella prima parte inizialmente ci viene fatto vedere Jude come un personaggio estremamente misterioso sappiamo veramente poco di loro come tutte le persone che gli sono a fianco c'è questa scena in cui ci sono Jude JB Willem e Malcolm al college che si raccontano in editi sul loro passato ma Jude non dice mai niente questo infastidisce i suoi amici perché dicono ma come tu sai così tanto di noi noi non sappiamo niente di te e per tutta la vita queste persone le persone che sono a fianco a Jude non sapranno mai niente di Jude perché Jude non riuscirà mai a dire quello che gli è successo in radi casi ci riuscirà come è il caso di Willem Willem è il personaggio a cui Jude è la persona scusate a cui Jude si sente più attaccato sono migliori amici c'è un rapporto molto stretto tra di loro sia da parte di Jude che da parte di Willem e poi si trasformerà anche in una storia d'amore la loro e che ho trovato tra l'altro anche molto interessante perché appunto il modo in cui parla di sessualità questo libro io devo dire l'ho apprezzato parecchio tutto quindi ci viene mostrato prima come vittima come buono ma poi capiamo che in verità non è proprio così vediamo Jude alla fine di tutto alla fine di questo libro come un personaggio estremamente negativo e soprattutto un personaggio estremamente manipolativo Jude manipola tutte le persone che gli sono a fianco e lo fa in maniera davvero atroce in alcuni punti soprattutto con Willem la vita delle persone che sono a fianco a Jude ruota completamente intorno a Jude da quelli che sono i loro bisogni perché lo vediamo come un ragazzo pieno di problemi un ragazzo con dei traumi fortissimi con delle disabilità dovute a quei traumi che appunto ha dovuto passare da ragazzo nonostante le persone che gli sono a fianco non cercano in tutti i modi di proteggerlo di aiutarlo di spingerlo a guarire anche se non è la cosa più facile del mondo perché ecco guarire da un trauma guarire da quei traumi da tutti quei traumi che ha affrontato Jude è molto difficile ma vediamo appunto come Jude riesce a portare tutte le loro persone a seguire quelli che sono i suoi bisogni e quello che dice lui e ho trovato questa cosa davvero allucinante quando si capisce effettivamente il tipo di persona che è Jude inconsciamente perché appunto lo fa inconsciamente non lo so rimetti in discussione tutto quello che è stato Jude finora e tutta la questione della sessualità di Jude è molto particolare perché lui sostanzialmente come ci viene fatto vedere spesso durante il libro non mette mai in discussione il suo essere attratto dagli uomini cioè non è che attratto dagli uomini lui ha anche problemi appunto a fare sesso per quello che gli è successo per tutte le molestie che ha ricevuto tutti gli abusi che ha ricevuto però non pensa mai alla donna come a qualcosa di sessuale non c'è mai un riferimento alla donna come possibile scelta perché tutto quello che ha conosciuto Jude nel suo passato è uomo questo parte da fratello Duke questo frate che ha cominciato a far nascere in Jude questo senso di vergogna di schifo di disgusto di repulsione contro se stesso repulsione contro il sesso una repulsione contro qualsiasi cosa e Luke questo frate che ha appunto prima abusato di lui poi l'ha fatto prostituire che ha dato il via a tutto quanto Jude sostanzialmente non ha mai dimenticato quello che gli è successo ovviamente non l'ha mai dimenticato ma allo stesso tempo lo vede sì come una cosa negativa lo vede come una cosa terribile vergognosa ma ritorna sempre lì il punto di Jude è ritornare sempre a fratello Luke a quello che gli ha fatto conoscere alla sua iniziazione alla vita che è opera di fratello Luke e mi ha dato un po' il senso di una quasi riconoscenza nei confronti di questa persona che invece gli ha distrutto la vita capiamo in questo modo quanto Jude sia letteralmente distrutto quanto la sua vita effettivamente non si può aggiustare non si può aggiustare perché lui è il primo a forse non volerlo fare perché semplicemente non pensa ad avere le forze di farlo ci sono così tanti elementi in questo libro che è molto difficile metterli insieme io penserò tanto a tutto quello che ho letto perché veramente ci sono così tante cose anche perché poi vediamo un Jude sempre diverso ho fatto riferimento a questa cosa anche nel vlog in cui vi dicevo che molte volte Jude sembra conscio di questa forza che ha ma la rigetta in qualche modo quindi ritorna nel buio ritorna a vergognarsi di quello che è di quello che è stato ed è convinto che questa forza per andare avanti lui non ce l'ha però nel contesto lavorativo lo vediamo per esempio in modo diverso Jude nel contesto lavorativo lui è un avvocato è molto rispettato le persone hanno quasi paura chi lo vede mentre discutono a ringa o si occupa di qualsiasi caso ha nei confronti della persona di Jude una sorta di timore perché lo vede così agguerrito così cattivo ma poi Jude non è così quello che è nella vita privata è totalmente diverso una persona a pezzi una persona a pezzi e ti fa sentire altrettanto a pezzi tornando poi un attimo alla questione della poca credibilità della cosa su cui io ripeto mi trovo completamente d'accordo ma ora essendo nella parte spoiler possiamo parlarne meglio nonostante appunto io sia completamente d'accordo con il fatto che tutto questo sia poco credibile e alla domanda come può una persona un unico soggetto canalizzare su di sé così tanta sfortuna come può nel corso della sua vita trovare persone che costantemente gli fanno del male riflettendoci ovviamente ripeto è una cosa poco credibile è una cosa che difficilmente succede però comunque credo che sia tutta una questione psicologica per cui Jude è portato comunque ad attrarre e non ad essere attratto però comunque a cercare quel tipo di persona quel tipo di persona che per lui è una certezza perché ha sempre conosciuto quell'aspetto della vita fin da piccolo Jude ha conosciuto persone che gli hanno fatto del male che gli hanno fatto conoscere un determinato e unico aspetto della vita che è la cattiveria vergognandosi così tanto di quello che è di quello che gli è successo perché lui rigetta tutta la colpa su di sé è logico che non cercherà mai qualcosa che lo appaghi anzi andrà a cercare qualcosa che maggiormente andrà a punirlo perché lui si sente di doversi punire si sente di non meritare quello che gli succede quindi tutti gli aiuti che le persone gli hanno lo stesso Willem lui li rifiuta in qualche modo li manipola per rifiutare tutto quello che gli succede una sorta di cane che si morde la coda continuamente farsi sempre davanti i soggetti che ti fanno in qualche modo del male è proprio una un cerchio continuo che non che non finisce mai e che secondo me inquadra alla perfezione quello che è il personaggio di Jude portato sicuramente all'estremo però nel suo essere così tanto estremizzata la cosa secondo me ha senso ha perfettamente senso ha una logica o almeno è quello che penso io è davvero complicato parlare di di questo libro perché ci sono così tante cose da dire succedono così tante cose che all'inizio sono in un modo poi le vedi in modo diverso e quindi il tuo pensiero cambia di conseguenza ti ritrovi a leggere qualcosa all'inizio del libro e poi alla fine la pensi diversamente metti in discussione tutto quello che hai che hai letto i personaggi la loro storia quello che hanno passato è un libro difficile è un libro che forse avrei dovuto prendermi più tempo per per assimilare per pensare a quello che ho letto ma sentire veramente la necessità di dire qualcosa so per certo di non aver detto tutto di questo libro soprattutto so per certo di non aver detto molte cose nella maniera in cui penso siano c'è una confusione totale verso questo libro a cui appunto mi ritroverò a pensare molto nel nel futuro questo era tutto io spero che vi sia piaciuto sentirmi parlare di questo libro sono molto curioso di sapere forse come non mai il vostro pensiero su una vita come tante che separa le masse nel bene e nel male qui di sotto vi aspetto nei commenti voglio assolutamente sapere che cosa ne pensate voi che cosa ne avete pensato voi mi trovate particolarmente sconvolto perché lo sono e questo era tutto e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi